la visita del palazzo è terminata usciamo ora nello splendido giardino ecco iniziano le scarpinate va via Grazie. I giardini di Palazzo Farnese sono opera del Vignola. Alla sua morte il complesso passò a Giacomo del Duca che si occupò anche di edificare questa che vedete alle mie spalle che è la Casina del Piacere che era un luogo di ritiro, un rifugio intimo del cardinale. Rifugietto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La Casina ovviamente è chiusa almeno al momento, non è visitabile però come vedete il giardino è comunque bello da vedere. Allora ragazzi abbiamo concluso questa visita al Palazzo Farnese. Il biglietto inclusivo anche della visita al giardino costa 10 euro, vale la pena perché come avete visto è veramente un'opera d'arte. Noi siamo in inverno, in primavera magari sarà ancora più bello, comunque sicuramente vale la pena fare una visita. Alla prossima passeggiata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.